Filetto di cervo alla Wellington. Iniziamo a fare la salsa d'Uxel di funghi e mi raccomando i funghi, lavate. Funghi, sale, andiamo via. Adesso andiamo a fare una crepe, andiamo a mettere il burro su tutta la padella. Capone, fatta la pasta sfoglia. Sale e pepe, già l'abbiamo messo, adesso andiamo di senape. A me piace quella in grani. Andiamo con la sfoglia. Due tuorli e un po' di panna. 200 gradi, 20 minuti. Capone, ti è andata bene pure oggi, Capone. Capone, magro di gaffa, è buonissimo.